Siamo qua sul sentiero. Io sono appena arrivato qua dove si scavalla sulla capanna d'Ornée e qui, qui dietro questo ometto. Eccolo là, il petit cloché di Fortaleur. Quello è il Fortaleur, questo qui, e quello è il piccolo campanile. Là, suppongo siano quelli i posti da vivacco. E adesso andiamo a vedere com'è questa famigerata Ave César. Let's go! Siamo qua su Ave César e dal talattacco qui, i primitivi, i primitivi sono in comune, sia che si stia facendo Ave César, sia che si stia facendo Fortaleur. La figa è sempre la figa. A Let's go! All'è, man. Volevo a libero anch'y no alla fessura. In caso, quando ho andato in là, ho visto il piede presa di più e ho detto. Come cazzo ho fatto andare fino, no? Ma io ho finito quello basso alla fine. Come cazzo ho fatto. Come cazzo ho fatto andare fino a così. Sieteci, bello di Endurance questo.